E' un'altra cosa crede, stavo andando tanto tranquillo guardate raga, modo segreta anzi la Sanctus contro SM722 che meraviglia, che verità vediamo raga se si può fare qualcosino oh no raga di più, bisognava, pure l'age è cascato che mi combina cascamo raga, un bel inizio un bel inizio raga, che dobbiamo fare non è stata colpa mia mi hanno spinto e sono chiuso giù ingiustamente, punto e basta flughi, flughi, vediamo c'è un vina non riesce a città lui guarda lui che lui ce l'ha fatta ce l'ha fatta appena sali sulla moto cascate sotto oddio te l'avevo detto flughi e cascate sotto questa laga, no bel inizio, meraviglioso raga, round perdente prossimo round, ok nuovo round ah il tug, ah comunque è stato creato da porchita, l'iraga mi stava a dimenticare eccolo qua il creador guarda quanto corrono questi zitti, zitti mamma mia sui, che dove fa, che dove fa è vivo, è vivo, è vivo, è vivo però quell'attrice ho paura è cascato, è cascato, lariamo, lariamo non è già rato uuuuh sui no raga, aspettate porchè sura d'aria a sergio è set digitale, io passo qui black tiger, li saluto, li saluto e e domani ci giocheremo raga che domani è play ma che che rompi i scatoli frati ma tu l'hai presa sta patente ma no, ma dove sta, no ma non esco sta radar, no quanto drifta sta macchina raga uuuuh a piedi, a piedi ma quello la schiaccia frati ma io dico sono entrati, si vediamo se ce la facciamo assaltare si, perfetto frati, frati au ha tutti i scatole, frati aspettate ora 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 no 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 chi c'è sta là? zitti, zitti zitti sei domani mi prendi oh 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 quanta gente c'è? uno, uno, uno uno solo smarks come domani ti prendo dai esci oh capriolo all'indietro ma l'hai aiutato il coso che cos'era? che cos'era quella cosa raga? che cos'era? me l'ho spiegato via 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 non lo so no, non ce la facciamo oh quanto cuore aspettate un attimo no no, non ci arriva le armi asfettate ma lei c'è da me che caschi chi è che ha riataliarmi? dei nostri intanto che aprirò l'aria indietro vero? no, non ce l'ho sfiorato l'ho sfiorato no, 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 è mia qua kill è mia, è mia, è mia va bene così, va bene così va bene, va bene non mi ramento raga vediamo un po' round vincitore prossimo round oh, già partito andate avanti andate avanti e combinate guai voi ma con flughi manca la casca per terra levati ok via, via, via via, via, via oh, lei c'è quanto laghi levati, levati via, via, via via, via, via via, via, via c'è nessuno, no? speriamoci che qua è pericoloso c'è nessuno, c'è nessuno sta lì a qualcuno sta di là zitti, zitti qua che è? bisogna saltare quello vuole la città zitti, ci siamo quasi ci siamo quasi zitti, zitti aiuto, aiuto, aiuto chi era arrivato? ah, sta sotto possiamo riarmi raga mamma mia che ansia oh oh ah, vedi che meraviglia che meraviglia raga, sali, 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 sali delaxo vediamo se sta portaccia le armi sì, sì via, via che la delaxo è bella potente raga via, via vediamo delaxo se c'è delude non c'è delude la delaxo oh, via ma prende no, no tutto è mia chi là dove stanno, dove stanno flughi te stavo quasi a prendere il volo sì, ma come faccio? così mamma mia raga allora, c'è un altro lì che non mi aggancia ora sì, ora sì, ora sì ora sì, ciao, ciao, ciao mamma mia raga smarx dove sta? dov'è raga? c'ho ansia raga c'ho ansia visto alieno viola spariamo lì preciso no, 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 no dove stai? e vabbè aspettate finito? finito finito ok, ok bel round round vincitore prossimo round ok, ok nuovo round nuovo round sbrighiamoci che qua non c'è più l'animazione raga ok, ci dobbiamo sbrigare via miniature no, 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 no ok, aspettate lì vanno a città frate, ma che te prende oggi? ricama è possibile che c'è un rompiscatole su play, su xbox, su pc su qualsiasi piattaforma c'è un rompiscatole ma non di altro perché mi piacerebbe di allora io io so come punirlo raga in maniere in maniere un po' speciali ma sempre a piedi sta aspettate che quello potrebbe uscire fuori no, non ora andiamo a prendere con l'un ma dove fai a piedi che non puoi? aspettate no e lì non può fare più niente raga sta andando indietro a prendere la moto l'ho preso? l'ho preso raga no quello là che è la motocicletta? dove sta? non c'è sta raga e che fanno? quelli saranno delle armi, si ci siamo ok ti aiuterò a te a città porchi da lì? me sa di sì allora risaliamo su c'è ancora una ciambella lì ma quanti sono rimasti? solo lui è rimasto porchi italiaralo per favore che armi ci abbiamo molotov e basta niente due dell'axo stanno arrivando colpa mia, colpa mia amico mio ma io ti ringrazio sì ma non mi ritrolla eh ma che l'age aspettate ok grazie sparate in potere frate non mi frega quella kill questa questa qui è mia è mia orato orato abbiamo vinto abbiamo vinto che meraviglia partita vincitore partita vincitore avviate altri due round dai ok raga avviate altri due round andiamo andiamo no no io non vado per primo che qua dobbiamo pure per la raccettare dalla parte delle macchine ce l'hanno fatta qui frate mamma mia quanto mi dispiace devo l'ho buttato giù da solo però l'ho buttato giù in una maniera migliore frate così impari a trolla a me là correte 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 mamma mia mamma mia lei già beh ti ho dato l'olla dell'axo prima sei perdonato perdonato sui vieni qua che spariamo una miniatura qui al sole vieni 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 un po' più vicino wow wow se la famo la miniatura oh che è tutta sta gente oh no no che americoloso corri corri meno male che corre sta macchina sta moto allora che dobbiamo fare 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 aiuto zitti sei no ho rialzo no rega ma in cioio credete sta casetta troll minnaggia che mi è cascato in testa poi due macchine allora osserviamo osserviamo la situation vediamo un po' con queste fluchi che che fluchi se mi devo dare una sfigazione porca posso aggiungerti o sono di traccio no no certo mi puoi aggiungere sui allora ci avete capito qualcosa in ci ho capito niente ci ho capito niente che no no aspettate un attimo aspettate un attimo è regolare alcol oppresso non l'avevo visto rega round particolare ah è successo qualcosa di misterioso rega che magari non sappiamo sono state esplosioni strane credo che ma infatti che succede non lo so andiamo a città andiamo a città andiamo a città rega proviamo proviamo stoppiamo rock star redditor ma teoricamente dobbiamo cittare nella casetta ma qui come no no fluchi vai 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 città 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 vai città chi diamine fluchi è colpa tua allora eh lo so lo so come hai cittato tu in una maniera che non si può fare i fluchi aspetta tu hai cittato ma te faccio vedere i fluchi mi hai cittato aspettate rega allora il signorino fluchi ha cittato così così ha cittato giusto qua però non si citta così rega madre mia madre mia l'esodiato a vendicarsi ce voglio crede viate che ammazzia lui rega ce voglio crede allora almeno portateci il round ah certo per poter assumire un'indicativo chi il karma dannato fluchi rega fluchi qualcuno ho visto fluchi dove stai do stai fluchi 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 carino grande francolino che è riuscito a reale le armi ara tutti ara lì tutti quanti che stravinciamo ah no il primo round abbiamo perso sì quindi abbiamo un altro bel round a disposizione di ah sta là fluchi ah ma ha cambiato giocatore pensavo che era esploso regà ho sbagliato io vedete vedete che sta qui regà comunque in se città con quel freno è troppo facile se no troppo 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 abbiamo vinto abbiamo vinto round vincitore vinceremo pure il prossimo round via via no andate 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 ok ah frate perché sta è là che c'è paura che te spingo via 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 veloci veloci che pericoloso fluchi aiuto 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 ah no sono cascato ed era una finta non ci sarebbe arrivato no finisce così l'LTS triste verità fluchi dentro l'autobus non fuori l'auto oh perché tutti fuori l'autobus ok ce l'ha fatta guarda che carine queste casette bellissime oh l'ha preso qui ma è vivo no oh che è successo rimane francolino francolì guarda dove sei incastrato no no c'è la chi c'è sta qua che sta che ci sta oh ma dove sta che cosa stiamo vedendo regà oh sei vivo porchi dali ma sta la no 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 è rimasto solo porchi dali portaci a casa sto round portaci a casa sto round per favore comunque bellissima sta moto vediamo la ciambella sta sempre là scusate pure nell'altro round stava lì non lo so comunque primo prima abbiamo vinto noi si ma vediamo 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 come si evolve la situation regà sono le sei e mezza regà uscirà le otto questo video perdonatemi matti che scrive smarks che vorrebbe città va franco lì è tosta è tosta non decelerare bravo franco lì bravo vai a prendere le armi vai a prendere le armi sbrigati corri 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 porchi dali regà abbiamo vinto abbiamo vinto non ce lo voglio credo abbiamo vinto abbiamo vinto staria qualcuno controllo staria qualcuno non c'è nessuno c'è uno che aveva città ha città c'è uno là dietro c'è uno là dietro porchi dali fatti attenzione vai 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 dai flughi non credo che lo possa leggere quanto stavo aiuto aiuto ok perché quando quando uno sta che te li dei flughi ma l'uno sta dall'altra parte regà se uno si scrive non lo può leggere lo sapete che qua che tecnica ce voleva fa esplodere tutto tutto dove fa esplodere niente devi lasciare uuu perfetto gg gg mirko non commenta che vuoi oreo scrive frate occhio 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 dov'è 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 che ci portiamo sto rando tutta l'TSH dove sta sta lì ringo allora che è successo è crashato abbiamo vinto partita vincitore comunque sia se vi è piaciuto questo lts fantastico di porchitaly lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video bella bella che ci becchiamo Grazie a tutti.